ciao a tutti ragazzi stiamo qui su fortnite oggi non sono più usciti i video perché ultimamente ho avuto problemi con l'audio e con obs vediamo cosa possiamo fare allora intanto non vedo nessuno nei paraggi per adesso sganciamo il pesce preistoria qua qual miglior deltaplano per andare al the shark c'è gente no 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 mi ruba la cesta non mi rubare la cesta porca miseria armati in fretta armati in fretta c'è gente non farti vedere dal tipo trovato qualcosa aspetta un attimo occhio occhio sta giusto giù sta giusto giù non fatti vedere eccolo vieni qua vai di pompa vai di pompa scusa sto sparato da occhio che potevano scansionarlo che vedevamo il nemico vabbè niente pazienza occhio che c'è trovato 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 il player vai arrivo anch'io ma c'è un tipo ci vuole far fuori vuole far fuori tutte le guardie punto fine vai apri un calma nessuno da me in pompa eccolo qua mi scusi poi sotto c'è la cassa la cagente dove sei ho finito ho finito ho ricarica 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 ok 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 aspetta aspetta ho il rampino infinito prendi la tessera adesso prendi andiamo giù facciamo rifornimento proviamo a baggare il gioco proviamo a baggare il gioco scusa non abbiamo tempo non abbiamo tempo non abbiamo tempo preparati a coprirmi vai ma come? ma non c'è il gioco? oh ma torta vacca gioco ho 5 di vita 5 di vita gioco non puoi curarti eh sì ma aspettami non abbiamo zio zio eh che cavolo c'è un problema sta arrivando la safe dobbiamo andare sull'elicottero e stavolta proviamo il trucchetto quello che ti dicevi baggare il sistema dobbiamo arrivare via il bicchetto il rampino quello infinito è passato Giulia Pa cosa? è passato è passato è passato dove? dove la vedi è passato? è passato eh io ho la chiave Giulia beh non abbiamo tempo abbiamo 8 secondi per uscire da qua oh ummm oh oh abba un salito diamo 8 secondi per uscire vai ma io l'elicottero vai all'elicottero vai all'elicottero scusa seguito son ritorna aia Allora adesso Ascoltami Stesso ascoltami Allora devi guidare tu Perché io uso il rampino Guida aspetta Funziona Sembra funzionare Alzati Vai verso la safe Poi alzati tutto Vediamo se funziona Se funziona ragazzi Se funziona Andiamo qua Madonna Sì alzati tutto Dimmi quando sei arrivato All'altezza massima All'altezza massima è arrivata Qua Che c'è un punto preciso Dove Colpire So che Non so se c'è Mi spara il rampino fuori Però Preparati Giulio ho una domanda Se li hai colpi Se li hai colpi Ci c'è il salto Eeeh Aspetta Ci c'è il salto leggendario Aspetta un attimo Che secondo me Non siamo gli unici Dove è finito Il coso Dove era E' qua Ah è sull'albero No no La cassa E' sull'albero E' qua sopra? Vai tira giù l'albero Stesso Se ci vedono Allora Il trucchetto quello lì non ha funzionato, peccato, perché era una cosa ottima secondo me Io guarda che andiamo a prendere il tesoro Eh? Ho il tesoro, ora, ora che esce là io No Dammi Zoro, zoro, zoro Datemi il comando, dammi accesso il comando Va bene, vai, abbiamo acceso insieme, ho sprecato un po' di materiale Sono a secco, vai alla grande Stai lì, fatti un po' di coso, io intanto mi farmo un po' di roba, perché sennò non ho niente proprio Zero Zero per difendermi Come è possibile che non c'è niente? C'è gente? Io non ho colpi C'è gente? Non ho colpi C'è gente? Non ho colpi C'è gente? Non ho colpi Sto qua vicino alla cuccia delle galline Sto qua Non hai niente Sto qua Sto qua Aspetta, tu devi fare i costi Vai, mi riprendi i colpi Ammazzate Voglio tutto Allora, prendiamo Che mira che ho Ok Prendi un po' di colpi Alla grande me li prendo i colpi, punto Guarda qua Questo Questo Mi sparo un po' di cure Siamo fuori safe Grande Grandissimo Vai all'elicottero Run, corri, corri Vai, dove è l'elicottero? No Questo devi darmi Questo Mi sparo E lo segui? Ho il zucchino Eh? Ho il zucchino Ok Dentro è nascosto L'hai preso almeno Eh, uno lo prendo Un altro no Boh, piglia quell'altro Adesso Vediamo se io Cerco di andargli Da dietro Eh, l'ho visto È lì L'ho visto col cecchino Anche lui c'è il cecchino E' stato la noccia? Sì È il camperone Tu guarda quel cecchino Gli vado da dietro io Eccolo là Eccolo là Loot, loot Mira adesso Mira adesso Che sta prendendo il loot Vai L'hai preso? No No Vai, ti è l'occupato Ti è l'occupato Gli sto arrivando vicino Eh, è morto Morto, morto, morto Dai, no Ce l'ha safe Ma che infamata Dai, giudio Andiamo via Andiamo via Vai, vai, vai Ci sono Io ci sono C'è gente No, no, no Arrivò 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 M'hanno fatto fuori No No Vabbè No, eravamo in tre No Non ci credo Là, là Guardalo Vedi di costruire Eh, vai, ti mando in safe Tu, poi, intanto Vai in safe Chi entra d'occhio Ti viene da dietro Da quello È lì Ti sta Stava prendendo la mia roba Guardalo, guardalo Guardalo, guardalo Guardalo Ah, sono in due Sono in due Ah, c'è la spara bende Quello Vai di pompa Vai, grande Vai su quell'altro Subito Subito Su quell'altro Ok, c'è di sopra Vai, vai, vai Grande Vai C'è, c'è di Dove è Eccolo lì Dietro, dietro Là, là No Secondi Secondi Sfortuna Sfortuna Però Dove è che hai trovato lo scarle leggendario? Eh, ce l'avevo da un'altra Uno Avevo ucciso uno Avevo c'è lo scarle leggendario, sia alberto Grazie a tutti